La comunicazione pubblica ovviamente risente delle condizioni dei singoli enti che sono molto diversificati. L'amministrazione pubblica è un mondo, un universo molto diffuso, variegato. Andiamo dalle amministrazioni centrali fino agli enti locali e ovviamente risente appunto della dimensione anche della missione istituzionale. Per quanto mi riguarda, seguendo le funzioni centrali, noi pensiamo che debba ancora avere uno sviluppo anche dal punto di vista del merito professionale, della contrattualizzazione, dei rapporti, perché nonostante la legge sia datata oramai a 19 anni fa, la 150 nelle amministrazioni centrali dello Stato manca ancora un approccio che miri a valorizzare questo tipo di professione. Con il contratto abbiamo cercato di metterci un adeguamento, ma dobbiamo continuare con il contratto 2019-2021.